Hollywoodiani, ma fate politica, cazzo, fate infrastrutture, fate ponti, fate strade, non fate il cinema, ste teste di casting. Datemi solo il tempo di trasformarmi nel Russell Crowe di Soresina, intanto voi, no, guardatevi l'entusiasmo, guardatevi un po' di entusiasmo, vai. Ciao a tutti, non vi nascondo l'entusiasmo con cui stiamo lavorando. Sono arrivato stamattina per una prima giornata di due, di verifica, di sopralluoghi, di tanti cantieri che sono in corso in Sicilia. Finché non si controlla con i propri occhi lo stato di avanzamento di tanti cantieri, io penso che la politica non possa capire che cosa deve fare per sbloccarli. Quello che mi interessa è che io lavoro qua dentro e in giro in mezzo alla gente dalle 16 alle 18 ore al giorno, chiedete a mia moglie che è preoccupata per me, dice Danilo, fare di meno, non posso fare di meno. Oggi abbiamo la speranza? Sì, lo so, lo so, viene dura, capito? No, ok.